Salve amici del segreto, in questo video andremo ad analizzare alcuni aspetti molto importanti del libro Sentirsi il segreto di Neville Goddard. Abbiamo parlato spesso dell'importanza della fede nel raggiungimento di un obiettivo. Goddard è un maestro nel trattare questo tema e questo libro ne è la prova lampante. Cercherò di analizzare questo concetto in modo breve facendo riferimento a questo libro. Cominciamo subito con il riassunto. Sei quello che pensi di essere. Quello che senti profondamente è molto più importante di quello che pensi. Puoi pensare di fare qualcosa per molto tempo e non farla mai, ma quando senti qualcosa profondamente sei spronato ad agire e Dio agisce, dice Goddard. Cioè c'è una forza che agisce insieme a noi. Colui che è la causa di tutta la vita agisce attraverso il senso del sentimento. Puoi pensare a mille cose ma non essere spinto ad agire su di esse. Una convinzione profonda, sentita e molto più importante di qualsiasi cosa si possa pensare. Il sentimento ci mostra con cosa ci stiamo identificando. La consapevolezza è lo stato di essere cosciente di qualcosa. È la conoscenza o percezione di una situazione o di un fatto. Diventa quindi fondamentale non solo quello che sta succedendo, ossia la realtà, ma anche la percezione che noi abbiamo di essa. Quello che sentiamo e le sensazioni che abbiamo determinano il nostro umore. Ci sono sette modi in cui possiamo allinearci con la sensazione, secondo Goddard. Attraverso la meditazione, la musica, l'informazione, la concentrazione sul compito da svolgere, la conversazione, l'ambiente e l'esercizio. Il mondo è tutto ciò che si trova al suo interno. Il mondo è tutto ciò che si trova al suo interno, sono la coscienza condizionata di una persona, dice Goddard. È fondamentale quindi capire il funzionamento degli esseri umani, il nostro potere interno, perché solo così potremmo riuscire a cambiare la nostra realtà. Se non siamo consapevoli del nostro potere non potremo mai usarlo. La coscienza è la causa e la sostanza del mondo intero. È ciò che determina il modo in cui noi agiamo, reagiamo, quello che facciamo e creiamo. Quindi è la coscienza quella a cui dobbiamo rivolgerci se vogliamo scoprire il segreto della creazione. La coscienza genera idee e le imprime nel subconscio. Il subconscio riceve le idee da loro forma ed espressione senza analizzare la loro validità. Le cose si evolvono dalla coscienza e senza questa sequenza non c'è nulla che possa essere fatto. Uno dei modi che Goddard menziona per cambiare le interpretazioni interne è il sonno. Ciò che avete nella coscienza mentre andate a dormire è la misura della vostra espressione nei due terzi del tempo in cui siete svegli nella vostra vita sulla Terra. Il sonno è dominato dall'ultimo concetto di sé da svegli. Ne consegue quindi che ogni persona dovrebbe sempre assumere il sentimento di realizzazione e soddisfazione prima che vada a dormire. Il subconscio opera in sintonia con l'intelligenza infinita durante il sonno. In quel momento la coscienza non esiste. Noi siamo... Non siamo più consapevoli della realtà in quel momento e il subconscio ha il pieno controllo del nostro essere. E in questo modo prosegue con l'intelligenza infinita per realizzare le idee, le considerazioni e le percezioni che abbiamo nutrito da svegli. La preghiera come il sonno è un modo per entrare nel proprio subconscio. Goda il farimento alla Bibbia dicendo La preghiera quindi è una forma di influenza che diminuisce l'impressione del mondo esterno e rende la mente più ricettiva alla suggestione dall'interno. La mente durante la preghiera è in uno stato di rilassamento e ricettività simile alla sensazione che si crea poco prima di addormentarsi. La preghiera non è tanto ciò che si chiede quanto come ci si prepara a riceverlo. L'elemento principale della preghiera sta nella fede, nel credere che quello che cercate si realizzerà, sarà vostro. Un altro verso della Bibbia dice Qualunque cosa desideriate, quando pregate, credete di averla ricevuta e l'avrete. L'unica condizione richiesta è che tu creda che le tue preghiere siano già realizzate. Senza fede non potrai mai ottenere niente. La tua preghiera sarà ascoltata se ti senti nel modo in cui ti sentiresti se tu fossi già in possesso di quello che vuoi. Nel momento in cui accettate il desiderio come un fatto compiuto, il subconscio troverà i mezzi per la sua realizzazione. Per pregare con successo quindi devi cedere al desiderio, cioè sentire il desiderio realizzato. Le emozioni che proverai in quel momento influenzeranno il tuo subconscio. Quando riuscite a sentirvi già quello che vorreste essere, siete liberi da ogni sforzo per realizzarlo, perché è già realizzato. C'è un sentimento definito associato ad ogni idea nella mente di una persona. Le idee negative ci fanno sentire male, mentre quelle positive ci fanno sentire bene. Noi riusciamo a determinare il modo in cui ci sentiamo attraverso la tipologia e la qualità delle idee che nutriamo. Fermatevi per un attimo. Provate a pensare di essere in grado di comprare una Ferrari domani. Come vi sentireste? Provate adesso a pensare di non essere in grado di procurarvi da mangiare. Come vi sentireste? Sono sensazioni totalmente opposte che generano stati d'animo opposti, i quali ci fanno vibrare in modo diverso. Le nostre vibrazioni sono energie che attirano il loro equivalente. Se siete positivi, avete fede e credete che tutto quello che volete sarà vostro, allora riuscirete ad attirare persone, circostanze ed opportunità che vi aiuteranno a realizzare quello che desiderate. La fede è il sentimento. Goddard fa ancora riferimento alla Bibbia dicendo Allora Gesù toccò loro gli occhi dicendo Siavi fatto secondo la vostra fede. Non si attrae mai ciò che si desidera, ma sempre ciò che si è. Se non vi sentite degni di quello che desiderate, il vostro desiderio rimarrà un semplice sogno. Dovete prima cambiare voi stessi i vostri sentimenti, i vostri pensieri, e così riuscirete a cambiare anche la vostra realtà. Goddard conclude dicendo Sei quello che ti senti di essere e ti verrà dato quello che sei. Questo era il video sul concetto della fede, analisi svolta in base al libro Il segreto sta nella fede, di Neville Goddard, un elemento che contribuisce ad attirare quello che desideri senza sforzi eccessivi. Se il video vi è piaciuto mettete un mi piace, condividetelo con altre persone che pensate che possa aiutarli a migliorare la loro situazione attuale o offrire nuovi spunti per il loro futuro. Spero che il video vi sia piaciuto, vi ringrazio della vostra attenzione e ci risentiamo nei prossimi video. Ciao!